Uno dei principali obiettivi del Movimento 5 Stelle è quello di eliminare i privilegi della casta. Abbiamo dato ai nostri politici un bel esempio. Abbiamo rinunciato a 50 milioni di euro a livello nazionale nei primi dieci mesi e a 100 mila euro a livello regionale nei primi sei mesi. Mentre noi rinunciamo, loro incassano. Con la legge regionale 6 del 2012, i politici del Trentino Alto Adise, allungandosi l'aspettativa di vita, si sono anticipati decine di milioni di euro. Mentre noi rinunciamo, loro incassano. Con decine di cittadini indignati, abbiamo costituito il Comitato Cittadino 5 Stelle Anti-Vitalizi per promuovere un'azione legale contro queste erogazioni scandalose e una raccolta fondi a sostegno. La partitocrazia non vuole riformare se stessa. Agiremo quindi con un ricorso a TAR che depositeremo nei prossimi giorni. Puoi sostenere il ricorso anche tu. Basta una semplice firma e una piccola donazione. Basta una semplice firma.